sono sergio per alcuni saverio ma questa è una storia che vi racconterò più avanti questo è affetti collaterali il podcast di amore asintomatico benvenuti signore e signori al match del secolo in questo angolo del ring con i guantoni rossi il peso piuma ma che fa cazzate davvero pesanti l'incontenibile il palpitante l'indomito cuore e nel lato opposto con i guantoni blu calcolatore freddo logico pesante perché un pesantone per ogni scelta che noi dobbiamo compiere signori il campione della ragione il cervello il match di oggi non poteva che iniziare con l'eterna lotta tra cuore e cervello che poi sono anche il simbolo di amore asintomatico a per chi non mi seguisse se vuole può farlo andando su instagram ma chi sferra il primo colpo in questo round sicuramente lo sferra il cuore perché il cuore è quello che prende sempre il sopravvento quando incontra quella persona che decide che deve essere la persona che deve amare inizia a palpitare così forte a battere a darci tutti quei segnali in cui ci sta dicendo è bello io mi sono innamorato adesso sono fatti tuoi insomma decidi cosa facciamo i love you a voi è mai capitato di innamorarvi all'istante del tipo mi avevi già convinto al ciao per citare il film jerry maguire ecco se vi siete mai chiesti perché quando parliamo di amore è sempre il cuore a comandare e no non sto parlando di quella piccola pompetta si può dire pompetta in un podcast vabbè comunque sto parlando invece di quel sentimento profondo che ti fa battere il cuore come quando ricevi il messaggio della persona che ti piace o quando ricevi la notifica di quello stronzo o di quella stronza che ti aveva gustato mesi fa è inutile che guardi il cellulare perché la notifica è un suono di questo podcast spoiler lui non ti ha scritto dicevamo quindi in questa eterna lotta questa dicotomia tra cuore cervello dicotomia mi piace un sacco è da quasi un tocco alla super quark a questo podcast ok ok dicevamo in questa antica dicotomia tra cuore cervello c'è del vero o gli antichi dicevano delle cazzate perché quante volte abbiamo sentito dire o ahimè abbiamo detto mi ha spezzato il cuore perché le emozioni forti sia positive che negative sembrano venire proprio da lì dal dal nostro petto ma perché che cosa ci dice la scienza in merito per questo secondo round ho studiato un po di più e ho scoperto che sia il dolore fisico che quello associato all'amore risiedono nel nostro cervello nello stesso posto che si chiama corteccia cingolata se si chiama così per il tortuoso percorso dell'amore fatto di alti e di bassi più di bassi che di alti beh questo non lo so non l'ho studiato fatto sta che quest'aria è responsabile sia del dolore fisico che di quello emotivo e vivono insieme tipo una coppia in un monolocale di 30 metri quadri a milano se è stato un errore di progettazione o una questione di budget quando ci hanno creato no non so neanche questo tutte queste emozioni passano per un grande mediatore che si chiama il nervo vago no non vago tipo il sì ci vediamo prima o poi per un caffè che ti ha scritto il tipo che ti piace il nervo vago è questo lungo cavo che attraversa diverse zone del nostro corpo inclusa l'aria del petto e quando proviamo un'emozione intensa sia amore che dolore il nervo vago trasmette segnali alla nostra corteccia cingolata creando quindi quella sensazione che c'è tanto familiare e quindi quando c'è questo sovraccarico emotivo questo corto circuito di sentimenti il nervo vago manda il segnale anche al nostro cuore che poi ci fa avvertire quella stretta al petto insomma è tipo ok devo farti sentire questo in modo che tu possa capire quanto mi piace la persona che è di fronte quindi questa emozione fa su e giù per il nervo vago va prima alla corteccia cingolata poi ritorna al petto insomma ecco perché poi non ci capiamo un cazzo quando siamo innamorati ok terzo round secondo alcuni scienziati quando ci innamoriamo il nostro corpo rilascia un cocktail chimico che include dopamina ossitocina e tanta altra roba impronunciabile insomma ci sentiamo su di giri è come se fossimo drogati l'amore è davvero stupefacente e se facessero il test antidoping in questo match al cervello risulterebbe sicuramente positivo ovviamente per colpa del cuore nella mia follia immaginaria innamorarsi un po come un rave organizzato dal nostro cuore e dove i neurotrasmettitori fanno la ola e il nostro cervello è lì a chiedersi ma perché cazzo mi sto comportando così cioè ma perché inizio a scrivere poesie d'amore e sto facendo questi gesti così folli però buone notizie più o meno perché alcuni scienziati hanno studiato che vedere la persona amata attiva le stesse aree del nostro cervello coinvolte nel piacere nella ricompensa che sono simili a quelle attivate da droghe come la cocaina il nostro cervello non riconosce tra l'essere innamorati o essere in un trip di cocaina quindi ecco ora spiegate tante decisioni prese ad minchiam in nome dell'amore tranquilla se ti sei innamorata di un caso umano era solo perché eri in un bad trip sulla mia pagina instagram ricevo un bel po di messaggi dove le persone generalmente mi chiedono un consiglio o un parere sulle loro situazioni d'amore mi è rimasto impresso il messaggio di questa ragazza che mi mandò lo screen del messaggio ricevuto dalla persona che le piaceva in cui questa inviò un emoji del del cuore ma non era l'emoji classica quella diciamo del rosso più acceso ma era sempre quella del cuore ma del rosso un po più scuro e lei mi scrisse secondo te perché mi ha inviato questo emoji e non quella classica e poi quando leggo questi messaggi dico ok siamo per forza sotto effetto di qualche sostanza perché altrimenti tutto ciò è spiegabile ma potrei citarne tanti altri per esempio quella ragazza che non riusciva mai ad incontrare il ragazzo che le piaceva dalle storie instagram aveva capito che lui andava a correre ogni mattina presto ha individuato il quartiere si è svegliata presto ed è andata a correre per incontrarlo casualmente o la ragazza bloccata su ogni social su whatsapp insomma non aveva più strumenti per comunicare con il suo tra virgolette amato e che cosa ha fatto gli ha fatto un bonifico di un euro con su scritto nella causale ti prego sbloccami ecco queste cazzate ce le fa fare sicuramente il cuore che poi costringe il cervello a comportarsi così come un sottone come l'arte di scrivere un messaggio e poi cancellare poi riscrivere poi cancellare poi riscrivere poi cancellare poi riscrivere un messaggio che doveva essere semplicemente ciao come va perché ogni parola quando siamo innamorati potrebbe essere interpretata in mille modi secondo noi sembro troppo disperato o forse troppo distaccato quarto round e in questo caso ci aspettiamo una reazione nel cervello perché non può sempre soccombere al cuore infatti contrattacca con un solido gancio di realismo perché perché dal punto di vista biologico l'amore serve principalmente a due cose a ricordarci che la persona che vogliamo non ci vuole no 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 scusate ovvero alla riproduzione e alla sopravvivenza della specie e quindi il cervello ci ricorda che a volte le decisioni basate sulla logica possono proteggerci da scelte sentimentali avventate quelle che fa il cuore e infatti sempre la scienza io un po me l'immagino questi dottor stranamore che vanno in giro a risolvere e a capire i problemi dei sentimenti comunque dicevo sempre la scienza dimostra che le coppie che valutano attentamente la compatibilità a lungo termine tendono a formare le relazioni che sono più stabili e quindi soddisfacenti se il cuore ci spinge in qualche modo verso chi ci fa sentire vivi il cervello interviene con i suoi criteri di selezione valutando compatibilità i valori condivisi e magari le prospettive future e ci sono ricerche che mostrano che quando scegliamo un partner il cervello elabora una vasta gamma di informazioni comprese quelle proprio legate alla sopravvivenza della specie per esempio ci sono alcuni studi che suggeriscono che tendiamo a scegliere un partner con un sistema immunitario diverso dal nostro what o basandoci su segnali olfattivi per esempio se tu indossassi chance di chanel io sergio potrei innamorarmi di te ah non diceva questo la scienza ok ok curiosamente il cervello non può sentire dolore perché manca di recettori del dolore e forse per questo accetta tutte le stronzate che gli dice di fare il cuore è un po ironico se ci pensate no considerando che elabora i segnali di dolore provenienti da tutto il corpo ma alla fine lui il dolore non lo sente è tipo un grande capo che dice fate quello che dico non quello che faccio e a proposito di curiosità ve ne dico una anche sul cuore che è un po poetica perché è uno dei pochi organi capace di auto guarigione grazie alla sua capacità di rigenerare le cellule anche se lentamente e visto che siamo in ambito poetico magari sarà anche per questo che quando soffriamo tanto per una relazione finita ci mettiamo del tempo per ritornare ad amare ma ma per non rimanere incantati da questa vena poetica vi devo dire che quello stronzetto del cuore ha anche lui una sorta di sua piccola mente che è conosciuto come il sistema di conduzione intrinseco questo sistema gli permette di battere anche se separato dal corpo è come se il cuore avesse una sorta di sistema di backup pronto a dimostrare che lui può farcela da solo indipendentemente dal cervello ve l'ho detto è uno stronzetto quasi quanto i vostri ex siamo all'atto finale all'ultimo round e se ho dato un punto al cuore do anche un punto al cervello chi vince questa battaglia la verità è che un vincitore realmente non c'è perché cuore e cervello devono lavorare insieme devono essere in sintonia questo lo sappiamo quindi non possiamo affidarci però solo alle emozioni o solo alla logica la verità è che l'amore è una forma vera è una sorta di partenariato tra cuore e cervello dove ogni decisione ogni battito e ogni pensiero contribuiscono a creare qualcosa che sia unico e meraviglioso e il problema che di questi tempi trovare l'amore è davvero difficile cari ascoltatori mi sento un po mike boggiorno la prossima volta che il vostro cuore sarà in subbiglio per amore ricordatevi che dietro tutte queste sensazioni c'è un intero mondo biologico e neurologico all'opera e voi dite ma a me che cavolo me ne frega io sto soffrendo così tanto per quello stronzo che non mi visualizza i messaggi lo so lo so e quindi siccome non voglio chiudere questa puntata con un messaggio speranzoso del tipo vedrai l'amore arriverà no per me invece bisogna imparare a innamorarsi di se stessi imparare a perdonarsi a darsi ogni tanto una pacca sulla spalla insomma prendendo coscienza di chi si è perché forse solo così capendo quali sono i nostri valori e i valori che noi vogliamo ritrovare nella persona che vogliamo avere accanto per tutta la vita o comunque per una parte della vita solo così facendo riusciremo poi a riconoscerla sono felice se siete rimasti fino ad adesso ad ascoltarmi questa era la prima puntata di affetti collaterali vi aspetto su instagram su amore sintomatico mandatemi i vostri messaggi ditemi che cosa ne pensate datemi anche degli spunti per la prossima puntata grazie 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 ci risentiremo presto su questi dispositivi e ovviamente un saluto alle mie ex ciao